La presenza delle persone in nostre vite sembrerebbe essere una cosa molto semplice o ci sono o non ci sono eppure quando accade che spariscano senza darci spiegazioni non c'è niente di più naturale del chiedersi perché Il ghosting è appunto quando una persona scompare senza darti nessun tipo di spiegazione e deriva dalla parola inglese ghost, appunto, fantasma Mai parola fu più azzeccata perché in effetti ti lascia proprio quella sensazione La tua vita è ancora piena di una presenza che però in realtà non c'è più Vivendo le relazioni su un piano digitale esiste anche un'altra forma di ghosting che è lo zombieing Lo zombieing è quando una persona sparisce la tua vita ma continua a avere rapporti con te sui social rendendo questa sparizione parziale e ancora più strana Attraverso un sondaggio, un sito di appuntamenti ha rilevato che l'80% dei ragazzi fra i 18 e i 33 anni hanno subito esperienze di ghosting Forse non è il campione scientifico più attendibile del mondo però ci fa capire quanto sia diffuso questo fenomeno La semplice evidenza del tu non ci sei più si scontra con il nostro bisogno di dare un significato alle azioni degli altri per poterle comprendere La sparizione altrui lascia interrogativi tanto grandi dentro di noi da diventare quasi ossessivi Un dato crudelmente chiaro in realtà le persone che spariscono ce lo lasciano non vogliono più far parte della nostra vita Ho letto vari articoli che definiscono il ghosting come una vigliaccheria tipica del nostro tempo Io non sono d'accordo né sul fatto che riguardi il nostro tempo né che sia un comportamento vigliacco Diciamo che quando dicevano vado a comprare le sigarette e non tornavano mai più era una forma di ghosting anche nel passato Il defilarsi dalla responsabilità non è un qualcosa di chi ha paura ma al massimo di chi rimane un po' bambino È la versione adulta di quando ero bambino avevi davanti un piatto con dentro gli spinaci e qualcosa che ti piace Tu mangiavi la cosa che ti piaceva nella speranza che gli spinaci sparissero Ci sono migliaia di motivi che possono portare qualcuno a ghostare Traumi passati, mancanza di affetto, insicurezza e magari anche assurdamente il fatto di non voler inclinare un rapporto Perché nella testa di chi scappa a volte il rapporto resta lì, immutato, perfetto come se nulla fosse successo E invece non è così Perché lo scontro è avvenuto solo dentro una persona, senza uno sfogo e questo l'ha reso ancora più complesso In un articolo di Donna Moderna, perché il lupo moderno legge Donna Moderna ho letto un'intervista ad uno psicoterapeuta, Roberto Pani Leggo Quando un legame cresce fino ad arrivare a un punto in cui deve svoltare uno dei due non riesce più a sostenere la parte che ha recitato fino a quel momento E non parliamo di prese in giro intenzionali, ma di comportamenti inconsapevoli Il fuggitivo, quando deve fare sul serio, non riesce più a rispondere alle aspettative che lui stesso ha creato E così, trovando difficile spiegare il proprio venir meno rispetto alle premesse iniziali preferisce sparire, come un bambino che nega ciò che non gli piace Come gli spinaci di cui parlavamo prima Io ho vissuto entrambi i lati del fenomeno A volte sono sparito e a volte ho subito la sparizione Quando sono stato io a sparire, ho spesso innescato dei meccanismi di autodifesa abbastanza assurdi È incredibile quanto ci si possa autoconvincere di alcune verità quando sono più comodo rispetto ad altre Cioè, quando rifletti su come sei comportato, è molto difficile vedersi come uno stronzo Di solito ti racconti un sacco di cose e magari invece vedersi come uno stronzo farebbe bene Chi si allontana, poi, spesso sa che la cosa che sta facendo non è proprio giusta E quindi innesca il meccanismo di difesa successivo Non pensarci proprio ed evitare di vedere la persona che ci metterebbe di fronte al problema Una mia teoria nella vita, ma che si applica anche al ghosting, è la teoria delle orecchie a sventola Mi spiego È quando tu vedi una cosa in una persona che non avevi mai notato fino a quel momento E da quando la noti non c'è più modo di tornare indietro Che ne so, che noti all'improvviso durante un romantico appuntamento Che l'unghia del pollice è terribile Cosa è così La teoria delle orecchie a sventola naturalmente non riguarda solo gli aspetti fisici Ma riguarda anche quelli caratteriali E la cosa incredibile è che non si applica solo agli altri Ma anche a noi stessi e ai nostri rapporti Quando vediamo alcune cose nei nostri rapporti è difficilissimo far finta di niente Capita a volte nelle relazioni di vedere qualcosa o nell'altro che non riesci più a ignorare E questo ti porta ad allontanarti Insomma, le orecchie a sventola possono essere sue, tue, della relazione Ma una volta che le vedi è difficilissimo ignorarle Io ho le orecchie a sventola, amici di venti Non sempre quando interrompiamo un rapporto facciamo del ghosting però Secondo me sono tre variabili che rendono il ghosting una cosa reale e molto dolorosa Il tempo passato insieme Perché crea delle abitudini difficili da dimenticare dall'oggi al domani Una progettualità condivisa Perché se fai dei piani di vita con una persona che poi sparisce Puoi sentirti un po' orfano di un compagno di viaggio Ma soprattutto è lo strappo improvviso dell'intimità A lasciarci quella sensazione di essere stati ingannati dall'altra persona E invece non è così, non ci hanno ingannati È sacco tutto reale, solo che a un certo punto loro hanno smesso di credere in un rapporto E qui la sparo grossa I rapporti sono come Dio O ci credi o non ci credi Se siamo quelli che subiscono la sparizione Non facciamoci più male del dovuto Non chiamiamo, non inseguiamo Non cerchiamo spiegazioni che l'altro non ha voluto darci Il silenzio diventa più doloroso ogni volta che lo si prova a spezzare E non diciamoci che andava tutto bene Perché evidentemente non andava tutto bene E se riusciamo non portiamo rancore Non siamo stati ingannati, non ci hanno mentito Siamo stati solamente lasciati Certo in un modo brusco Però è solamente una rottura Non siamo sbagliati, non siamo colpevoli Non abbiamo fatto niente di male Abbiamo solo valutato diversamente un rapporto Può capitare Io la vedo così L'affetto che provo non è un interruttore che posso accendere o spegnere Quindi passata l'incazzatura tendenzialmente torna a voler bene alla persona con cui sono stato Conoscere e capire le persone a cui vogliamo bene Anche quando le loro decisioni ci fanno del male È forse la cosa più bella che possiamo fare per loro Naturalmente poi non siamo cyborg È normale rimanerci male Ci mancherebbe altro Facciamo passare il tempo riempendere di cose Diciamo sì a tutto E se ci va e abbiamo voglia Facciamo sesso con altre persone Usciamo con altri Però senza farlo per ripicca o per dimostrare qualcosa Anche perché il dolore che uno prova non è trasferibile agli altri Non è un modo per liberarsene Anzi al massimo li contagie Se siete male in due Non facciamo pagare a persone a caso le presunte colpe del nostro ex di turno E non stiamo lì a aspettare un ipotetico ritorno L'importante è non restare immobili in attesa Guardiamo molte serie tv Io dopo la mia prima vera rottura ho visto tutto Lost 4 stagioni di Game of Thrones Sono stati i giorni più belli della mia vita Sono arrivata a poter quantificare l'importanza di un rapporto In termini di quante serie devo vedere per dimenticarlo Se siamo quelli che spariscono non facciamo più male del dovuto Evitiamo di riavvicinarci a caso Di rimandare eternamente un incontro O di usare frasi autoassolutorie tipo Sono fatto così Una delle cose che avrei voluto dire a me stesso quando sono sparito È questa Ed è che non ti sei dato l'opportunità di essere capito È vero è stato comodo Ho evitato i litigi e le lacrime Però alla fine non ho dato all'altro l'occasione di capirmi Sono semplicemente sparito Mi sono accontentato di essere spaventato dalle aspettative invece di parlarne Non tanto per salvare il rapporto Ma per capire un po' di più me stesso Quando sparite o siete la persona che sparisce Le parole sono due Fragilità e inadeguatezza Se siete la persona che subisce la sparizione Non colpevolizzatevi per una mancanza di maturità altrui E se siete quello che invece scappa Cercate di capire il perché Non perché sia la cosa giusta da fare Ma perché è una non gestione del problema Il ghosting non risolve un problema Lo rimanda Gli spinacci sono ancora lì nel piatto E non sono un'altra persona Sono i nostri limiti E non sono i nostri limiti Grazie a tutti